Ciao e bentornati. Oggi andremo alle cascate di Saturnia, acque termali situate in Toscana. Luogo unico per le proprietà delle acque termali, per le piscine calcaree originate dalla cascata e per la natura circostante. Le cascate sono un luogo naturale e libero. Sono aperte 24 ore al giorno, tutti i giorni, anche in inverno e l'ingresso è libero e gratuito. Si tratta di un luogo che si è creato naturalmente, grazie all'azione della cascata di acque solfure termali, generata dal torrente del Gorello. L'acqua arriva direttamente dalla sorgente naturale di Terme di Saturnia e attraversa tutto il parco termale. Successivamente percorre circa 2 km tra i campi fino ad arrivare alle cascate del mulino. L'acqua sgorga da una sorgente naturale ad una temperatura di 37 gradi e mezzo e grazie alla presenza di un particolare elemento, ovvero il plankton termale, si caratterizza per gli effetti benefici che ha sulla pelle e sugli apparati digestivo, circolatorio e motorio. Nel corso dei millenni la potenza con cui l'acqua si riversa sulla roccia di Travertino ha scavato delle piscine naturali terrazzate. Nel corso dei millenni la potenza con cui l'acqua si riversa sulla roccia di terrazzate. Un luogo da tutelare e preservare.